Da lunedì 29 gennaio avranno inizio i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria che collegherà il quartiere di Torre al depuratore cittadino. I lavori sono suddivisi in tre lotti distinti che comprendono alcune vie di Torre, via Rivedole e la riviera del Pordenone. Continua la grande opera di riqualificazione della rete fognaria cittadina con il comune assieme ovviamente a Idrogea. Un'opera di grande valenza ambientale, un'opera complessa dove saranno investiti 5 milioni di euro. Purtroppo ci si incatena a Pordenone, agli alberi, senza però considerare il grande valore ambientale della riqualificazione, dell'opera di bonifica che questa amministrazione ha fatto sulle infrastrutture del sottosuolo. Con quest'opera continua la più grande opera di bonifica ambientale che la città abbia mai conosciuto. Prima che io diventassi il sindaco si è investito pochissimo nelle fognature e nella depurazione, circa 400 mila euro. Noi siamo arrivati già a 27 milioni di euro perché? Perché lo facevano i romani, è inspiegabile che nel 2023 e nel 2024 non si abbiano ancora le fognature in tutta la città e non si distinguono l'acqua nera da quelle bianche. Pensate a una cosa, pensate a quanto liquame producete in ogni vostra singola casa, moltiplicatele per tutte le case di Pordenone. Immaginate che senza quest'opera finisce tutto nei fiumi, nelle rogge, nei terreni, nei fossi. E tutto questo ovviamente è inaccettabile. Occorrerà continuare pur nella consapevolezza che queste opere sono impopolari perché creano disagio ai residenti, creano disagio al trasporto pubblico, creano disagio a chi guida la macchina. Però lavorando in maniera intelligente, lavorando in maniera razionale, si farà in modo di mitigare il più possibile disagio ai residenti che dopo qualche mese terminati i lavori si dimenticheranno anche di questi fastidi. Il primo ad essere interessato è il tratto di via Revedole, dall'incrocio con la Statale 13 fino all'ingresso principale del Parco del Seminario. Su questo tratto di strada, dal 5 febbraio, sarà istituito il divieto di transito, fatta eccezione per i residenti e i frontisti. Successivamente si procederà con via Monteverdi e via Damiano Chiesa. A fine febbraio avranno inizio anche i lavori in via Borgo Casoni per estendersi man mano in alcune vie limitrofe. Il tratto lungo la riva Erasca sarà realizzato durante la chiusura delle scuole, in modo da limitare al massimo i disagi per i cittadini. Si tratta di un efficientamento dello schema fognario che va a definire lo smistamento delle acque reflue da quelle parassite, quindi il convogliamento delle acque miste che vanno nel depuratore. È un progetto fondamentale per la tutela del territorio e dell'ambiente.